Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi sono andato, stanotte sono andato con la mia ex amica Valeria. L'evento mi sono soffiato e mi sono rimasto male perché sembrava così reale il suo sogno perché ci parlavo, ci parlavo bene, conversavo, scherzavamo, ci siamo mandati messaggi vocali. Io pensavo realmente, volevo realmente che quello fosse la verità, la situazione non era reale, invece poi purtroppo era solo un sogno, sono svegliato e sono rimasto di merda. E vabbè, ancora la penso purtroppo, non sono riuscito ancora del tutto a superare questa perdita, fra virgolette, e niente, detto questo, devo comunque accettare il fatto che è finita fra me e lei, in amicizia, di accettare il fatto che non la sentirò più, che non avrò più niente a che fare, questa è solo un sogno, sono solo nei sogni, posso avere a che fare con lei, forse alla fine è anche giusto che sia così. Poi ho sognato anche che praticamente stavano i miei nipoti a giocare con delle ragazze. Io ovviamente, essendo i miei nipoti, si stavano giocando delle strane, ho cercato di installare un dialogo con queste ragazze. queste mi ignoravano alla grande. E praticamente io cercavo, più cercavo e queste più mi ignoravano. In pratica cosa è successo? È successo che, finché una ragazza è girata verso di me, mi ha guardato storto, e poi è tornata a tutta l'indifferenza di questo mondo, è tornata ad essere indifferente. Tanto non ce l'ho visto più, tanto non ce l'ho visto più, ho preso i bambini, ho preso la domanda, ho detto, senti, andiamo a vedere che sti troie di merda non mi calcolano. Non mi calcolano. Giustamente uno dice, vabbè, cazzo, ma anche nei sogni queste vacche di merda mi dimostrano l'indifferenza di spreche di sistema. Cioè, almeno nei sogni, panca miseria di farmi che faccio la stessa con qualcuna, ci parlo con anche le amicizie, invece niente, anche nei sogni mi mostrano l'indifferenza di spreche di sistema. Perché stai? Grazie Grazie Grazie.